Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, io sono Kevin e oggi siamo tornati Panico totale 100, sentite la risposta, star drop totalmente gratis, così a caso, senza che noi sapessimo nulla oggi vi dirò tutto quello che so riguardanti sti 100 star drop sti 100 star drop casuali, perché è incredibile io andassi nelle notizie, guardate nuovo evento della community, 100 premi, star drop cioè, e poi ci sta anche il lughetto allora, in poche parole, spiegandovelo a mie parole velocemente a 600 milioni, occhio, ascoltate bene questa cosa che ho visto di queste cose si potranno, non si faranno più con le kill bensi, ma con gli star drop perché io mi ricordo che prima si facevano con le kill, adesso è un nuovo evento totalmente, più noi apriamo gli star drop rari, ce ne sono tre al giorno non lo so, quindi adesso è importante aprire tutti i star drop rari perché probabilmente molto importanti quelli chissà se sarà fattibile una roba del genere l'evento termina il 25 marzo, quindi ha voglia che ci sta di tempo allora, 600 milioni, ricevete un premio star casuale a 900 milioni 3 premi casuali a 1 miliardo ma dopo quel numero quant'è 5 premi casuali vabbè, su tutto il mondo mi sa che sia fattibile 1 e 500 mila 100 premi star casuali poco allora, poi altra cosa che vanno a dire perché io ho potuto vedere il video giustamente e sono d'accordo non sono contro per giocare a questo evento bisogna avere 400 trofei allora, perché sto a coppia basse faccio una cosa e anche questo lo dico si conserva tutto fino a 400 trofei e poi risponde tutti gli star drop del pass così almeno gioca anche lui questo evento assurdo a strade poi ci sarà il mega premio e qua tutto praticamente tutta YouTube si è spaventata perché il mega premio consiste che verranno scelti 100 giocatori accumulati il maggiore numero di premi star rari quindi le persone che in poche parole hanno raccolto più più star drop rari rispetto a tutti quindi più star drop rari e verranno scelti questi qui per ricevere la bellezza di ascoltatemi bene sarà tosta vincerla 100 star drop tutti di fila leggendari cioè non c'è una volta che non ci sarà uno star drop leggendario l'evento termina il 25 marzo come vi ho detto è tantissimo lo so di sicuro molti vanno già tutto ora va tutto il record non so quanto sia fattibile trovare trovare sempre star drop rari questo regalo dobbiamo avere fortuna ma penso che sia abbastanza facile perché abbiamo anche qua il calendario quindi sarà fattibile allora stasettimana qui tra ieri dateci però io vi do un consiglio come dico sempre secondo me chi sta poi ognuno la pensa come vuole a 400 coppe non lo so chi è che sta lì ha più per me parere mio più possibilità di ottenere perché ha più roba da riscuotere qua più star drop e poi ci stanno più cose da riscuotere all'interno del pass giustamente ma questo è un po' per tutti però mi sa che ha più possibilità di vincere rispetto a uno che già possiede tutto l'evento interessante vi dico la mia sono felice questo è l'evento che volevamo l'evento più folle hanno proprio implorato Frank io non so al povero Frank cosa le hanno detto secondo me si sono inchinati a quanto saipa totale pandemonio io non vi mostro neanche il video perché vi ho spiegato tutto nel modo più veloce possibile cerchiamo di arrivarci ai 100 premi star drop perché voglio fare un mega video quando ci sarà la possibilità nel mio negozio un tastetto pigio tutto cioè sarebbe bellissimo vedere sta cosa spero che ce la facciamo un miliardo e mezzo questi sono i traguedi dell'evento anche ve li lascio qui perché se volete fare una foto occhio perché adesso ci arrivo che c'è un'altra cosa i club ascoltatemi ascoltati giocate la lega di club cioè giocatela perché questa cosa da così tanta roba di star drop ravi che molto probabilmente ce la faremo anche con questo evento del mega salvador quindi tanta roba hanno fatto davvero io sto periodo per brawl è un periodo pieno di gioia e felicità eventi da tutte le parti non so un totale di quanti eventi hanno fatto fino adesso ma troppi troppi eventi probabilmente assurdo ci facciamo una bella partitella per che da un po' che non faccio una partita su un video su growl solo che vi volevo parlare di sto evento assurdo allora inizia la partita spero che tutti avrete potuto missati si recuperare il video di ieri di clash mini mi sinceramente dispiace volevo fare un video sul guadagno ma non ho nulla da riscuotere rispetto ai soldi forse voi potrei dare qualche consiglio se dovete scegliere un gioco supercell su dove darvi le gemme datevele di sicuro sul vostro preferito maggior parte ma vi do un consiglio più che altro se dovete scegliere tutti e tre li giocate tutti e tre vi piacciono tutti e tre il consiglio sapete qual è è bro stars perché su bro stars ci sta molta più roba da comprare rispetto a un clash of clans poi valutate voi e vedete qual è il vostro preferito alla fine della fiera ognuno ci fa quello che vuole per chi pagato giustamente non possiamo richiedere le robe lì tipo il tempo investito io me ne ero andato infatti per qualche periodo su clash mini però sapete com'è finita vabbè questo è alla fine della fiera allogia siamo arrivati in un meglio che ne parlo in un periodo in cui non ci stanno più giochi da pro one noi come abbiamo sempre fatto porteremo brawl fatemi sapere se volete un secondario gioco su questo canale perché il secondo gioco fino a un po' di tempo fa era stato clash mini infatti era il secondo per il resto il gioco principale da quando è tornato è bro stars quindi in poche parole gg è il primo grande in poche parole il gioco principale qua è bro oh siamo quasi al gradato 23 di leon senza senso vabbè sapete che il gioco principale è bro ve lo dico noi ci salutiamo ci becchiamo al prossimo video quindi ascoltatemi giochiamo all'evento come meglio possiamo facciamo più troppe rari e se becchiamo la leggendaria adesso sarà il contrario avremo sfiga perché così non faremo punti quello che è noi ci salutiamo e ci ribecchiamo a un prossimo video quindi ciao belli ciao